Learn more at www.ida.com. 불cana www.xaim hurricane.com nescontro.org Wow! Quanta gente no? Che paura! PAURA! Sapete, la paura ci ha aiutato a sopravvivere, ci ha portato fino ad oggi e sicuramente ci portarà anche al futuro. Forse la paura è anche parte della cultura, e per quello la cultura è futuro. Ma sapete, prima di fare tutta questa presentazione, io mi chiedevo ma che posso dire io intorno alla cultura? Io sono un scienziato gastronomico, lavoro per il Future Food Institute a Bologna e mi occupo di trasformare il cibo. Utilizzo la fermentazione e attraverso l'aiuto dei microrganismi produco un terzo prodotto con un altro valore. E dicevo, ok, lavoro con il cibo, e il cibo in parte è anche cultura, no? Il cibo genera un impatto. Il cibo è un linguaggio comune. A tavola tutti ci capiamo, tutti parliamo la stessa lingua. Non importa se siamo da altre culture o no, tutti ci capiamo. Tutti sentiamo la stessa musica, il silenzio, e soprattutto se il cibo è buono. Per dimostrarvi questo, che il cibo unisce le culture, il cibo è un linguaggio comune, il cibo genera un impatto e modella la nostra mentalità in qualche modo, vi vado a raccontare un piccolo aneddoto. Questo aneddoto gira intorno ai miei primi giorni qua, in Italia. Io sono spagnolo, sono venuto qua per fare il mio tricino di master e alla fine sono rimasto qua. E dei primi giorni abbiamo realizzato questo piccolo aperitivo, implementando un po' tutti quelli prodotti fermentati che stavamo sviluppando al nostro laboratorio. L'abbiamo pubblicato in Facebook per promozionarlo e ho avuto questo commento di un signore, questo è stato il primo mio feedback qua. Questo signore lo possiamo chiamare Antonio, come la mia nonna che è Antonia, bella tosta, quindi lo chiamiamo Antonio. E diceva, tutte queste tecniche innovative, tutte queste cose moderne che stanno distruggendo un po' l'autenticità e la tradizione italiana, wow, bravo, sì, primo lavoro, top. Io ho pensato, mi sono messo 24 ore per risponderle, ho chiesto anche permesso, perché forse c'era molto aggressivo, ho chiesto permesso, sì, sì, puoi rispondere. E l'ho risposto, guarda, anzitutto grazie, grazie per il feedback, posso capire la tua delusione, io sono spagnolo, anch'io amo il cibo spagnolo e lo difendo, difendo la tradizione spagnola, tanto come difendo adesso e amo la tradizione italiana. Però, permettemi di farti una domanda, esattamente quella tradizione che tu difende tanto, quella tradizione che tu ami, esattamente da quando inizia? Da quando il pomodoro è arrivato dall'America? O da quando il basilico è arrivato dall'India? Perché sapete, alla fine il cibo non ha posto, il cibo è da dove si cultiva di maniera sostenibile, sostenibile con il medio, con noi, le persone, la società, sostenibile di maniera economica. Una volta riusciamo a fare quello, il cibo è di tutti, è del posto dove cresce. Io gli dicevo, guarda, io semplicemente ho preso ingredienti della zona, l'ho trasformato attraverso della storia, perché la fermentazione la facciamo da 7000 anni fa, non è che l'ho inventata io, l'ho applicata con la conoscenza di oggi, con la conoscenza della scienza, e questo è stato il risultato, ma mai è stata la mia intenzione esputare su questa tradizione italiana. Perché alla fine quello che dobbiamo capire è che dobbiamo fare innovazione oggi per avere delle tradizioni domani. Il parmigliano un giorno è stata una tradizione, il parmigliano si è scoperto come un modo di conservare il latte come tutti i formaggi, e guarda adesso, il mio preferito, il formaggio più umami al mondo. Quindi forse dobbiamo continuare a fare queste cose, perché alla fine il cibo è vita, il cibo è il nostro sostento, è il fornitore di energia, il cibo è sociale, parliamo che è una lingua comune, al tavolo tutti ci capiamo, unisce le persone. Il cibo ha anche un impatto economico, intanto il problema è che non si alinea con l'impatto ambientale che stiamo generando, ed è per questo che dobbiamo continuare a innovare e a trasformare la nostra mentalità, per generare questo impatto economico, ma con un miglior impatto sociale e ambientale. Alla fine il cibo è cultura. Ma sapete, all'inizio anche mi chiedevo, ma che cosa è cultura? Parliamo cultura, 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 cultura e futuro, ok, lavoro con il cibo, già l'ho spiegato, tutto molto bello, però che cosa è la cultura? Io buttavo giù questa definizione, prima di guardare il dizionario, dopo ho fatto un po' di ricerca e non sono stato così sbagliato. La cultura è un insieme di mentalità incardinata in un tempo e uno spazio definito. Io vorrei prendere di questa definizione tre variabili, mentalità, tempo e spazio. Con questo facciamo una piccola equazione. Mentre il tempo avanza, lo spazio si trasforma. E quindi se la mentalità non si trasforma allo stesso livello, allora non ci saremo adatti all'ambiente che ci circonda. Se la erba che cresce qua in Reggio Emilia cambia e noi non abbiamo provato di fare il parmigiano in altri modi, allora le mucche mangieranno quella erba, produrranno un latte diverso e quindi il parmigiano non sarà lo stesso. Ma se invece abbiamo provato a innovare e a fare il parmigiano in altri 20 diversi modi, forse se lo spazio cambia con l'azione del tempo, la nostra mentalità sarà adatta anche. Alla fine, con tutto questo, lo unico che voglio dire è che dobbiamo creare dell'impatto attraverso del cibo. dobbiamo cambiare piano piano la nostra mentalità. Antonio, io non so se l'ha capito, no, non ha mai risposto. Però, sì, lui non ha mai risposto. E forse è venuto da me e manco ho avuto l'opportunità di conoscerlo. però l'importante è che sia la nuova generazione che noi stessi dobbiamo provare a trasmettere queste cose perché è l'unica maniera di arrivare al futuro e tutti mangiamo. Perché alla fine il cibo è cultura e la cultura è futuro. Grazie.